Un rinnovato benvenuto ai lettori di Hard Upgrade, siamo qui allo stand Sainizer dove siamo venuti a vedere le tre novità che ha presentato il produttore, naturalmente in ambito audio. Partiamo dalla più piccola, si tratta degli auricolari wireless della serie Momentum, classici auricolari che noi possiamo mettere al collo e infilare in ear per ascoltare la musica, dicevamo wireless con connessione Bluetooth 4.1 e tecnologie Qualcomm aptX per lo stream di musica in alta qualità anche sulla connettività Bluetooth. La particolarità è questa finitura in vera pelle che dovrebbe rendere queste cuffie facilmente indossabili e anche parecchio stilose. Passiamo al secondo prodotto, parliamo anche in questo caso di cuffie wireless con connettività Bluetooth, NFC per il pairing rapido con il nostro telefono, padiglioni in pinta pelle, sono abbastanza comode. Diciamo che questi esemplari qui che abbiamo visto allo stand Sainizer non ci hanno convinto del tutto dal punto di vista della qualità delle plastiche. Il prodotto di punta, tra quelli presentati qui al CS, sono le HD 4.50 Bluetooth con Noise Cancelling. In questo caso praticamente sono le sorelle delle cuffie che abbiamo appena visto, ma offrono oltre alla connettività wireless per ascoltare senza finire la nostra musica, anche la possibilità di attivare la cancellazione del rumore. I prezzi vanno dai 200 dollari degli auricolari, 200 dollari anche per queste cuffie con Noise Cancelling, di quelle senza Noise Cancelling invece saranno a 150 dollari.